Zilli Giulio del Barline, la sua squadra è in polemica con lei per la sua assenza ingiustificata di sabato scorso, come mai? Dove è stato? La squadra era stata avvisata molto prima che io non c'ero, però hanno giocato lo stesso bene, la mia squadra c'è sempre e adesso basta, era un girone un po' duro, non potevamo passarlo, però adesso iniziamo a giocare e a puntare alla Coppa perché almeno nelle prime tre vorremmo arrivare.